Musica Buonasera e ben ritrovati a Vite d'Atleta. Ho il piacere di ospitare il campione europeo in carica dei 100 e dei 50 metri stile libero, Vasca Corta, Vasca Lunga, Luca Dotto. Grazie mille, buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere ed è un onore, ti seguo e davvero complimenti per queste belle emozioni che ci fai rivivere. Grazie, grazie mille. Io da parte mia spero soltanto di poter far sempre meglio in Vasca appunto e di regalare, perché no, altre emozioni da qui nei prossimi anni, visto che iniziamo ad essere vicini ormai a quella che è la prossima Olimpiade di Zocchio, quindi l'impegno è molto. Assolutamente, e ci arrivi con le carte in regola. Abbiamo detto, sei il campione d'Europa uscente, sia 50 che 100 metri. Quanto sacrificio c'è per arrivare dietro ad una gara cortissima, ma dalla difficoltà immensa? Ma guarda, sacrifici, ovvio, ce ne sono tanti, però io dico sempre una cosa, quando c'è una passione molto grande, i sacrifici vengono fatti e non ci si accorge nemmeno di farli, perché veramente, io sono nato di via di casa, che avevo 18 anni, appena finito quella che erano le scuole superiori, ho dovuto dire purtroppo ciao alla mia famiglia, ai miei amici più stretti, e mi sono dovuto trasferire a Roma per coronare quello che era il mio sogno, di diventare appunto un notatore professionista. e mi sono ritrovato, diciamo, da una piccola realtà del mio paese, del Veneto, Tombolo, che sono 6 mila abitanti, è una città di più di qualche milione di abitanti come Roma, mi sono trovato da solo in questa realtà, insomma, mi ha un attimo sconcertato all'inizio, però era quello che volevo fare, quindi il non vedere i miei amici, appunto, non vedere la mia famiglia, star da solo in questo contesto nuovo, l'ho sempre fatto con la massima voglia, la massima volontà, e hanno ripagato questi sacrifici, insomma. Assolutamente, hai pronunciato il nome di Tombolo, mi viene in mente due altri grandi campioni, dal mondo del ciclismo ed anche del calcio. Esatto, del ciclismo, andiamo per ordine di importanza, quella che secondo me è appunto, il campione olimpico del 1960, Beghetto, ciclismo a tandem, se non sbaglio, e poi, beh, una gloria del calcio, ovvero Dino Baggio, appunto, secondo nel mondiale del 94 contro il Brasile, vincitore, se non ero, di tre coppe UEFA, e, insomma, io sono, diciamo, la terza gloria sportiva di questo piccolo paese, che nonostante sia appunto piccolino, si è ben difeso, insomma, negli ultimi anni nel mondo sportivo. Ti segue il tuo paese, hai i tuoi supporti, i tuoi fans, insomma, ci sono? Sì, 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 tutte le volte che comunque vinco delle medaglie importanti, sanno che passo per poco tempo, diciamo, durante quelle che sono le mie vacanze estive a casa, però cercano sempre di organizzare comunque una festa in comune, per poter comunque mostrare anche ai cittadini, ai miei concittadini, quelle che sono le mie medaglie, insomma, ringraziarmi, e poter anche io ringraziare loro, visto che, insomma, in tutti gli anni, da quando sono piccolino, mi hanno sempre seguito il sostenuto con molto ardore, insomma. E beh, poi, quando c'è un campione in un paese piccolo, fa sì che il movimento si apra, continui e che magari anche i numeri nel nuoto crescano. Luca, hai cominciato sin da piccolino col nuoto? Sì, ho iniziato a sei anni, cinque, sei anni, ora non mi ricordo nemmeno di preciso perché sono passati veramente tanti anni. È stata mia mamma, appunto, a decidere di scrivermi in piscina perché lei ha iniziato tardi a nuotare, aveva trent'anni, però fin da subito ha capito quella che era l'importanza di potersi difendere in quello che era l'elemento dell'acqua, appunto, l'importanza di saper nuotare, fondamentalmente. Quindi, anche in virtù del fatto che fondamentalmente ero abbastanza negato in tutti quanti quegli altri sport che normalmente i ragazzi fanno, come calcio, basket e così. Ma se avevi solo cinque anni... Però già vedevi che non avevo, diciamo, un buon feeling con quella che poteva essere una palla, qualcosa che mi veniva incontro, diciamo. Ma invece nel nuoto ho subito dimostrato di avere quella quaticità naturale innata che invece molti non hanno, perché fondamentalmente anche lì sono quelle abilità che non si sa fondamentalmente da dove vengono, è dono della natura. Ed è lì, diciamo, non è scoccato, diciamo, l'amore a prima vista tra me e il nuoto, perché all'inizio non mi piaceva, fondamentalmente parliamo di uno sport che è anche noioso, perché non c'è un gioco sotto, come gli altri che ho citato prima. Sei tu da solo, con la riga nera sotto la piscina, fare avanti e indietro, in un ambiente, tra l'altro, anche freddo, molte delle volte. Però andando avanti con gli anni, chiaramente, diventando sempre più forte, poi l'amore è scoccato e mi ritrovo ancora qui a 28 anni, sono uno dei più ormai anziani della nazionale e non ho proprio voglia di smettere. Assolutamente, guai a te. No, no. Mamma Guglielmina, che comunque ti segue tuttora, è la tua allenatrice? No, no, no. Ancora? È diventata allenatrice, tra l'altro qualche anno fa, di un gruppo di preagonismo, di bimbi, e tutti quanti appunto, perché godeva un pochino anche di un nome, perché insomma, la mamma di Luca Dotto, tutti quanti sospettavano molto. Adesso appunto, istutti c'è di nuoto, ha lasciato quella che è la parte agonistica, perché aveva un po' troppe depressioni da questo punto di vista, però lei, insieme a mio papà Fabrizio, mi hanno proprio insegnato quello che è l'amore per l'acqua, mi hanno trasmesso quello che è comunque l'amore per l'acqua, perché anche mio papà è subacqueo, gli piace fare apnea sub, poi è sempre stato comunque in mezzo all'acqua con windsurf, surf la onda, quindi entrambi hanno fatto sì che poi crescessi come un malato di quello che è l'acqua e del mondo generale anche marino. Hai fratelli o sorelle? Sono figlio unico. Quindi piccolo di casa, niente l'hai detto tu, una famiglia di acquatici. Esatto. Ed ecco di qua. Quindi la tua trafila nel club, presumo, del paese, fino a una certa età, fino ai 18 anni? Fino ai 18 anni, appunto. Io sono cresciuto in quella che è la piscina del paese confinante, Tombolo. Tombolo non ha la piscina, ma cittadella. Il paese confinante dispone di un ottimo impianti e soprattutto anche di un'ottima scuola, perché stiamo sempre parlando di una zona che fa, con tutti quanti i vari paesi confinanti, circa neanche 20.000 abitanti, però da questa piscina piccolina siamo già stati in tre capace di farle Olimpiade. Maria Raro Simonetto, le Olimpiade del Pichino 2008, io 2012-2016 e Andrea Tognato insieme a me nel 2016. Quindi la scuola è molto buona nella nostra zona, appunto la zona centrale del Veneto. però a 18 anni ho dovuto fare la scelta di diventare professionista e per poterlo fare mi sono dovuto trasferire, sono dovuto andare a Roma, chiamato anche da quello che è tuttora il mio allenatore, Claudio Rossetto, che all'epoca era l'allenatore di Filippo Magnini, che era campione del mondo in carica nei 106 libro, la gara che pratico io. Quindi assolutamente è stata una grandissima opportunità per me e non me la sono voluta far sfuggire, perché da piccolino che ero iniziavo un pochino a capire come andava a finire il mondo delle gare e tutto quanto. Avere la possibilità di allenarmi con una persona come Filippo, di un atleta vincente come Filippo, lo vedevo come un'opportunità di crescita incredibile. Infatti mi ha insegnato molto e se sono qua, ora, con le mie medaglie, le mie vittorie, comunque lo devo anche a Filippo. A lui hai dedicato, se non sbaglio, il tuo oro sui 100 metri, battendo il suo record europeo. Il primo uomo a scendere sotto i 48 secondi. Esatto, mi lasconda. Che emozione? Eh, quella è stata l'emozione mia più grande della mia carriera, che infatti molti mi fanno questa domanda, mi dicono sempre, ma qual è la medaglia che preferisci da tutte quante? E dico sempre, il momento che preferisco nella mia carriera di nuotatore non ha una medaglia, perché il record italiano l'ho fatto conquistando, diciamo, una medaglia con la staffetta ai campionati italiani, con la staffetta della Forestale all'epoca, ora siamo in Italia dei Carabinieri. Certo. E lì appunto ho guidato la staffetta con il primo tempo di 47-94 e lì è stato il momento più bello, anche perché avevo sì vinto in passato, però avevo quel pallino, di essere il primo a scendere sotto i 48 secondi nei 100 stili libero, che sta anche in indicare fondamentalmente quello che è l'ingresso nell'elite del nuoto mondiale per quanto riguarda questa gara. Quindi è stato un momento veramente bello, che spero di poter poi ripetere in questi prossimi anni di carriera che ho davanti, perché è veramente qualcosa di eccezionale. Quindi dicevamo 18 anni, catapultato a Roma e l'inizio di una nuova vita, tra l'altro pochi anni dopo si è anche stato ruolato nell'allora corpo forestale, adesso Carabinieri, quindi si è diventato sì veramente un professionista a tutti gli effetti. Esatto, esatto. Roma è una città come appunto molto diversa da quello che era il mio paesino, Tombolo, chiaramente Tombolo non è neanche un quartiere di Roma paragonato. Non è stato facilissimo all'inizio perché chiaramente ti distrae molto quello che è l'ambiente della città, perché ti viene da uscire, ti viene da andare a fare gli aperitivi, tutte queste cose qua, no? Però dopo qualche settimana di una vita diciamo un po' rocambolesca, nonostante ero abbastanza piccolino, ecco ho deciso, anzi ho capito che non doveva essere quella la mia vita in città, ma doveva essere la vita dello sportivo professionista. Quindi ho iniziato comunque a seguire un stile di vita molto più rigido, chiaramente, però insomma non mi manca, non mi manca per niente andare a fare aperitivi ogni sera o andare a ballare il venerdì o il sabato come fanno di solitamente i ragazzi della mia età che magari studiano o lavorano, fanno un lavoro normale, perché appunto il mio sì, un lavoro tra virgolette come dico sempre io, che però richiede l'utilizzo del mio corpo, quindi ogni giorno fondamentalmente devo presentarmi in piscina o in palestra ed essere in grado di portare a termine quelli che sono gli allenamenti. Luca, un tuo corpo che ti ha portato anche sulle passerelle, sei stato una testimonial del più grande marchio di moda in Italia, nel mondo, e adesso anche testimonial non solo di moda ma anche di sport, bisogna essere sempre in forma. Ah beh, sicuro, anche perché lì appena si ingrassa di un grammo non si vede più quello che è l'addominale, e te lo fanno subito nuotare e te lo fanno pesare durante i shooting fotografici, però per fortuna insomma nuotando è uno degli sport secondo me più duri, che comunque ti fa bruciare più calorie in assoluto, quindi siamo tutti quanti belli asciutti e definiti, no? E poi insomma per me è stato un bel onore, diciamo, essere stato scelto dal signore, dal re, insomma Giorgio Armani per poter insomma usare quello che è il mio viso, il mio corpo, e quelle che sono le sue pubblicità, ho avuto l'opportunità di conoscere un mondo che da sportivo normale fondamentalmente non avrei mai potuto avere la possibilità di conoscere, in molti anche altri sportivi che hanno anche magari vinto più di me, non hanno avuto questa possibilità, quindi sono perennemente grato al signore Armani di questa opportunità che mi ha dato, e anche perché ho fatto delle esperienze veramente bellissime nell'arco degli anni di collaborazione che abbiamo avuto. Ti piacerebbe poi continuarlo domani, magari? Ti dirò, no, è un mondo bello, mi è piaciuto, divertente, però non mi vedo, non mi vedo in quel mondo, e mi vedo comunque sempre legato a quello che è il mondo dello sport. Lo sport è la mia vita, quella che è stata la moda, le passerelle, le foto, continueranno penso fin quando appunto sarò uno sportivo in carriera, però dopo un po' finirà tutto quanto. Sei un ragazzo molto vero, queste tue parole l'hanno testimoniato, probabilmente la provenienza di un paesino ci insegna a rimanere coi piedi per terra, perché è un mondo patinato, pieno di brillantini e paillettes, ma poi alla fine uno vorrebbe... Attira. Attira, certo. Attira, certo. Però conosci, una volta che lo conosci, capisci che non è tutto oro, quello che luccica, come si suol dire, no? È un mondo bello, fin quando sono interessati a te, ma non appena cara l'interesse tendono a farti fuori abbastanza velocemente. Non è successo nel mio caso, perché ho potuto lavorare con un singolo brand per cinque anni e poi ho avuto l'opportunità di lavorare con un brand francese per altri due, però ti fa capire che veramente lì in mezzo, se soprattutto sei soltanto un modello, sei veramente un oggetto. Quindi bisogna essere sempre molto... stare molto accorti, comunque essere consci di questa situazione e non, diciamo, farsi prendere troppo anche l'abitudine di certe situazioni belle, patinate, perché non è così, ovvio. Bisogna anche lì, ovviamente, rabocarsi le maniche e lavorare duramente se si vuole appunto stare in quell'ambiente, però non è facile perché la gente non è facile in quell'ambiente. Non è come nello sport, diciamo, dove fondamentalmente la maggior parte delle persone sono sincere, oneste, insomma, si parla di quella che è la cosa che è la nostra passione e di quello che è il nostro gioco oppure attività. Lì ci si dà, insomma, un bel po' di gomitate per farsi avanti. Esatto. Una vita di sacrifici, l'hai detto tu, mi è piaciuta la frase è una vita che vedo questa linea nera sotto di me e potrebbe sembrare uno sport noioso, ma in verità, avendo già intervistato altri nuotatori, da tutti mi è stato detto no, non è uno sport noioso, anzi ci divertiamo. Confermi, Luca? Confermo, ma questo nostro divertimento deriva dal fatto che sotto c'è una grandissima passione. Perché se tu prendi una persona che non è appassionata al nuoto oppure che non ami particolarmente stare in acqua, stare a contatto con quello che è l'acqua e la sensazione che essa ti dà, difficilmente si potrà divertire. A meno che non vada chiaramente in mare, quelle due o tre volte l'anno, a fare il bagno e dice che bello. Però farlo ogni giorno, due volte al giorno, per una vita intera, tante volte non è così bello. Però appunto, abbiamo una grandissima passione, è quella che ci spinge comunque ogni mattina a metterci il costume e buttarci nell'acqua fredda per giustamente non semplicemente fare quattro vasche sciolte e rilassarci, ma per spingere, per faticare e arrivare dopo due ore comunque con la lingua fuori. Però ecco, la cosa che è più divertente è sicuramente il fatto di poter gareggiare. Gareggiare soprattutto ad alto livello, devo dire. Perché quelli che sono i palcoscenici di livello europeo, mondiale, olimpico, fanno sì che ti diano una carica tale che ti fanno dimenticare tante volte appunto i sacrifici, le fatiche, i dolori, i momenti di crisi, perché l'obiettivo è così grande che hai quello davanti a te. Non guardi le cose che ti succedono giornalmente che ti potrebbero, diciamo, destabilizzare da questo punto di vista. Quindi vai avanti per la tua strada convinto perché vuoi arrivare per divertirti lì in quel momento. Assolutamente. E tutto vale la pena. Quando hai scoperto di essere uno sprinter e appassionato di stile libero? È successo abbastanza per caso, perché avevo 14 anni e io all'inizio ero dorsista. Tra l'altro nemmeno nelle, diciamo, distanze brevi, 50 e 100. Notavo soprattutto i 200 dorsi. E a un campionato italiano di categoria, quindi giovanile, partecipai, diciamo, per caso, ai 50 stili libero e il mio allenatore mi disse guarda Luca, fai questa gara per scaldarti perché dopo un'ora e mezza avrai la tua, i 200 d'orso. Va bene. Mi sono presentato nel blocchetto di partenza, tra l'altro, in una delle batterie più scarse e non so ancora come, sono riuscito a vincere il titolo italiano giovanile partendo con fondamentalmente i più scarsi, senza nemmeno proprio ricci di pensato. E allora lì da quel giorno ho detto stai a vedere che stiamo sbagliando qualcosa. E allora dal dorso ci siamo... Stai a vedere che mi giro. Esatto, mi sono girato sulla pancia. E da lì poi subito, dall'anno successivo, ho fatto comunque registrare ottimi tempi, ho continuato comunque quella che era la serie vincente appunto iniziata per caso l'anno prima e da lì poi non mi sono più girato sul dorso ma sono sempre continuato a stare con la testa bella bassa. Avevi comunque il tuo punto di riferimento che se non sbaglio era lo stesso Magnini? Certo, sì, sì, sì. Magnini ha vinto il primo mondiale nel 2005. Io, quel 2005, erano gli anni in cui iniziavo a diventare un pochino più forte, avevo appunto 15-16 anni, quindi era il mio idolo più grande. Volevo imitarlo il più presto possibile e dal primo momento in cui mi sono ritrovato ad allenarmi con lui, ad essere suo compagno di staffetta, suo avversario in gara, è stato un raggiungimento di un sogno perché per me un idolo di questo sport è potermi, diciamo, confrontare giornalmente, se non anche in gara, per un titolo con lui è stato qualcosa che mi ha spronato molto. Erano gli anni anche di un certo Ian Torpo. Esatto. Che cosa ha rappresentato per te? Ian Torpo è stato, Penso come tutti i nuotatori della mia generazione, è uno degli idoli più grandi e già faceva abbastanza, diciamo, era curioso il fatto che nuotasse con un costume completamente intero, ovvero dotato anche delle maniche, quindi già questo personaggio destava, insomma, scalpore o comunque faceva sorgere delle domande anche ai non praticanti del nuoto e poi anche perché aveva uno stile di nuotata eccezionale e lui ha vinto giovanissimo perché l'Olimpiadio del 2000 aveva soltanto 17 anni quando vinse in casa appunto l'Oroni 400 stili libero, ad Atene si ripetè vincendo anche l'Oroni 200 stili libero e ho avuto la fortuna di poterci gareggiare contro perché lui nel 2012 tentò nuovamente la qualifica e venne proprio qui in Italia a gareggiare allo stadio del nuoto di Riccione. Venne anche a Livigno ad allenarsi, in grande segreto. Vedi? Sì. E vederlo, è come il discorso che ho fatto prima con Filippo, poterlo vedere dal vivo e anzi poterci gareggiare conto è stato bello, è stato bello anche perché tra l'altro l'ho battuto, quindi insomma, ha maggior ragione, c'è un bel ricordo dietro. E dopo di che è arrivato quel mostro sacro, appunto, Michael Phelps, imbattibile, che dire? Michael Phelps è uno di quegli atleti che nasce forse ogni vent'anni, ma nemmeno, perché ora come ora, almeno nel nostro sport, non c'è più un talento del genere così, diciamo, malleabile, così eclettico, che può variare dallo stile libero al delfino, ai misti, ed essere vincente in qualsiasi gara in cui si metta la prova. Ha vinto, cosa? 24 medaglie d'oro alle Olimpiadi, ha battuto qualsiasi tipo di record e penso che non ci sarà più nessuno come lui e vederlo dal vivo, poterci gareggiare di fianco, è stato un onore incredibile. Tra l'altro è stata la mia prima gara a livello mondiale assoluto, la staffetta 4% di libero, e partivo con lui di fianco, quindi è stata un'ulteriore emozione che tengo veramente nel cuore, perché io comunque piccolino, all'esordio mondiale, con il mostro sacro per eccellenza di fianco a me, è stato qualcosa di eccezionale, di incredibile. C'era mia amma che neanche ci credeva fondamentalmente. È stata una grande cosa e sono comunque quei talenti, come si può prendere, che ne so, nello sci, Alberto Tomba, oppure la Campagnoni, perché sto parlando di italiani, che ispirano comunque le persone, la gente, soprattutto i bambini, a provarci anche loro, a tentare, ad appassionarsi a quelli che sono gli sport, che erroneamente avevano chiamati i minori, ecco, e questo fa sì che comunque poi tutto quanto quello che è il movimento sotto cresca ulteriormente anche. Hai avuto modo di conoscerlo anche fuori dalla vasca? Sì, anche se è molto schivo, perché, cos'era, nel 2016 ero a Orlando, per una delle pro-Sires che si vengono a disputare lì, appunto, in America, e nella gara di 100 stili libero sono riuscito a batterlo, io sono andato secondo dietro Nathan Adrian, un altro campione olimpico americano, lui arrivò terzo, io riuscì a batterlo, e la cosa che mi ha sorpreso, che quel giorno, in una gara che fondamentalmente non contava niente, lui è venuto a congratularsi con me e con Nathan Adrian, però con Nathan Adrian fondamentalmente si conoscono, sono compagni nazionali da un sacco di anni, io fondamentalmente, a meno che non si fosse ricordato del 2011, di quando gli partivo di fianco in stampetta nel mondiale in Cina, era difficile che si ricordassi di me, però è venuto da me e mi ha dato il 5, mi ha detto, good job, capito, ma anche nella cosa sì, veloce, e poi ho avuto la possibilità di rincontrarlo negli studi Rai per una trasmissione e allora lì gli ho ricordato quell'avvenimento e lui se ne è ricordato, allora abbiamo un po' chiacchierato, lui aveva già smesso perché era dopo l'Olimpia del 2016 e allora gli chiedevo com'era la vita, diciamo, post natatoria. E si è messo a gareggiare contro gli squali. Esatto. Lo fareste anche tu questa sfida? Ma guarda, a gareggiare no, perché tanto è impossibile battere uno squale, per noi umani è impossibile battere anche il più piccolo dei pesci, in acqua sono loro che comandano, però ho avuto la fortuna e la possibilità di fare, diciamo, diving, di fare immersioni in giro per il mondo, perché appunto è una delle passioni di mio padre, perciò ne ho visti, insomma, di pesci belli grandi, tra i quali anche gli squali ed sono uno tra i miei animali preferiti, tra l'altro, quindi tanta roba. Hai la passione dei viaggi, l'hai detto tu stesso adesso, lo sport appunto ti permette di viaggiare, però è anche un tuo hobby. Certo, purtroppo, allora, per fortuna con il nuoto ho potuto conoscere tantissime persone e visitare tantissimi posti, però con il discorso che ci sono comunque le gare, non posso fare il turista quando andiamo in giro. Fondamentalmente quando si finisce la gara, se si ha ancora uno o due giorni a disposizione, allora lì si cerca di vedere quelle cose, diciamo, principali di una città, comunque di un posto, anche se il tempo è relativamente poco. Certo. Però appunto, almeno una volta l'anno, se non anche due, io e la mia fidanzata, partiamo, voliamo, anche se di voi ne prendiamo tanto durante l'anno e andiamo proprio all'avventura, alla scoperta del mondo, perché sarebbe un peccato comunque fermarci e non visitare, perché siamo comunque anche molto curiosi, non possiamo qui i classici turisti che vanno nelle strutture alberghiere a fare la bella vita, nella spiaggia riservata dell'albergo e basta, no, ci piace comunque affittare il nostro veicolo, viaggiare, vedere posti, vedere come le culture locali vivono, come vivono loro, tutte queste cose, e conoscere gente del luogo, quindi sentirci parte per quel breve periodo, diciamo, di quella, appunto, natura. Qual è il luogo più bello che hai visitato? Quello che ti è rimasto più nel cuore? Ma, allora, uno dei luoghi miei preferiti non è fuori dall'Italia ed è, sono le Delomiti, sono le Delomiti, sono le tre cime di Lavaredo, ci sono ritornato anche quest'estate, appunto, ho portato Rossella che non l'aveva mai vista la mia fidanzata e non stancano mai le Delomiti, fondamentalmente. Poi però, sono un tipo più da mare, ecco, diciamo, e ho avuto la possibilità di visitare paesi come le Maldive, l'Indonesia, la Thailandia, quest'anno siamo stati in Africa, abbiamo fatto una settimana a Zanzibar e una settimana in Tanzania, appunto, il safari per vedere, appunto, gli animali nel loro ambiente naturale, però uno dei posti che preferisco in assoluto sono le Bahamas che abbiamo visitato dopo le Olimpiadi di Rio ed è un posto che per la sua bellezza ma anche la sua tranquillità ci ha conquistato perché è un posto che nonostante sia diciamo obiettivo del turismo di massa americano è rimasto comunque molto, diciamo, naturale al di là di quelli che sono i grandi resort e quindi, come dicevo prima, ci siamo affittati la nostra macchina, abbiamo visitato tutta quante le isole e hanno dei posti che sono incontaminati che sembra di essere proprio fuori dal mondo ed è, a detta di entrambi, insomma, il nostro posto preferito. Parla al plurale e ti stai riferendo a Rossella Fiammingo, pluricampienza del mondo di schermo ed anche argento a Ria, insomma, medaglie in casa non ne mancano. lei è molto più forte di me a livello di palmarès. Quando vi vedete, Luca? Eh, bella domanda. Ci vediamo purtroppo nei weekend, dico purtroppo perché vorremmo vederci molto di più, però lei si allena in Sicilia e io mi alleno a Roma. Lei viaggia molto più di me con la scherma perché come quello che accade nelle discipline invernali c'è la Coppa del Mondo che è molto importante quindi almeno dieci volte l'anno parte e va via e fa anche viaggi comunque abbastanza lunghi. Quindi siamo lì fondamentalmente a valutare quelli che sono i nostri calendari agonistici, vedere quelli che sono i buchi e cercare di incontrarci o lei da me a Roma oppure io vado in Sicilia oppure in qualche aeroporto in giro per il mondo. Non è facile però ce la facciamo alla grande. Che dici? E poi abbiamo sempre una conclusione. Rossella, sei considerato uno tra i più belli d'Italia, sexy in ball, sportivo. Io che te ho davanti, posso anche confermarlo, è gelosa? Sì, è gelosa, da buona siciliana però sono gelosa pure io perché anche lei di sicuro non passa inosservato e anzi decisamente passo io inosservato quando sono io di fianco a lei perché è veramente bellissima però insomma io non mi considero come hai detto te un sexy symbol so di non essere brutto per carità però non è diciamo una cosa di cui mi vanto ecco fa piacere chiaramente essere apprezzati per il proprio aspetto fisico è una cosa che aiuta mi interessa di più a Rossella chiaramente perché essendo ragazza un pochino più vanitosa gli piacciono quelli che sono i complimenti però ecco gelosia sì ma nel modo giusto comunque aggiungo anche Luca ok sei bello sei qua da vedere ma sei veramente molto simpatico questo sicuramente fa la differenza ed è proprio vero lo spero insomma e sei anche un ragazzo umile sei proprio un bello personaggio siamo in conclusione che cosa vorrei fare da grande che cosa voglio fare da grande l'astronauta si dice sempre ci manca no purtroppo non ho non ho abbastanza testa e quello che piacerebbe comunque fare da grande è rimanere sempre nell'ambito sportivo e quello che è uno dei miei sogni non è allenare di sicuro e è quello di poter comunque stare a livello manageriale all'interno dello sport come manager appunto di quelli che sono atleti o società e perché no anche come gestori di impianti e però comunque come ho detto sempre all'interno dello sport sempre all'interno del nuoto e poi comunque non precludo nessun altro tipo di strada insomma penso di avere davanti a me molteplici strade aperte perché comunque c'è anche il discorso da vedere nei prossimi anni di quello che può essere lo sviluppo con la televisione quant'altro insomma posso fare un sacco di cose posso anche ritirarmi in Sicilia aprire un ristorante un bar a Taormia cioè nulla mi vieta di fare quello che voglio per fortuna certo che consiglio vuoi dare ai giovani? ma ai giovani l'unico consiglio che mi sento di dare non è né tecnico né motivazionale è semplicemente quello di divertirsi veramente ed è soprattutto una cosa che cerco di ripetere tante volte i genitori che me lo chiedono che magari dicono ah ma vedo mio figlio che va ad allenamento un po' controvoglia alle gare a paura tutto quanto la cosa importante quando sei bimbi è divertirsi che poi che vinci che perdi non ha importanza l'importante è che ti sei divertito io ho avuto la fortuna di avere i miei genitori appunto che non erano lì con il cronometro in mano a vedere se miglioravo di gara in gara ma mi chiedono semplicemente quando tornavo a casa ti sei divertito Luca? sì allora a posto non mi chiedevano cosa ero arrivato quante bracciate avessi fatto durante la gara se il mio amico era nato più forte di me era quella la cosa importante che secondo me è stato quello il piccolo segreto che mi ha concesso ad arrivare fino ad adesso insomma ad essere così competitivo dici poco grazie davvero anche per il consiglio grazie a voi grazie Luca Dotto davvero un grossissimo bocca al lupo crepi grazie a voi e speriamo a breve insomma alla prossima è tutto per questa sera grazie per la cortesa attenzione vi rimando a mercoledì prossimo buona serata grazie a tutti